posso fare l'intro girati almeno dai la schiena ciao a tutti ciao a tutti e benvenuti sul mio canale io sono Sara e oggi ho intenzione di vloggare un pochino perché voglio portarvi con me all'inaugurazione posso parlare il nuovo locale di una mia amica quindi ora andrò a lavarmi truccarmi e vestirmi e poi andiamo insieme questo succede quando ti dimentichi di struccarti prima di entrare in doccia occhi da panda quindi ci strucchiamo adesso molto meglio molto meglio ormai non mi trucco praticamente più e quelle poche volte che mi metto qualcosa mi dimentico di averla sopra mi lavo i denti e poi inizio a truccarmi i capelli li lascio per l'ultimo perché se faccio col phon muoio dal caldo se non voglio esagerare col trucco perché appunto ormai è da un po che non mi trucco più non trovo le cose è indecisa molto su cosa metterli perché sta caldo ma dove farà freddo ovviamente ho cambiato questo però così muoio ricordo adesso caldo mi metto l'altro alla fine ho cambiato outfit decimila volte adesso vado a casa dei miei che così mi sistemo i capelli e mi faccio facciare il vestito dietro perché adesso sono il grado non riesco a prenderla a trovare il bottone questo lo posso fare ah e poi volevo provare ho fatto una cavolata però questo lo so ti cambia il mio visito è un po' un po' mortissima vabbè facciamo così ci penso e se no quando arrivo dei miei si cambi idea tolgo già non mi trucco mai per fortuna che non dovevo esagerare bene si non voglio esagerare col trucco direi che è ora di andare adesso sono in viaggio che sto andando dai miei a prendere mia mamma alla fine la maglietta l'ho lasciata a casa perché tanto tempo neanche un'ora e sarebbe arrivato a casa Nicola per cui piuttosto di sballottarla da una parte all'altra ho preferito così e comunque la non l'avrei portata perché suppongo che ci sia musica e casino per cui meglio così sono estremamente in ritardo quindi non so che si esano anche un po' a sistemare i capelli sono un po' emozionata perché in realtà non è il suo tipo locale ma è il secondo e però questa volta fa due cose più grandi quindi sono molto curiosa di vedere il risultato ciao ciao piccolo papà andiamo a vedere se la mamma è pronta però i capelli li lasciamo al naturale l'ossetto l'abbiamo torto e c'è stato anche un cambio di outfit improvviso sei pronta mami? sei emozionata per vedere il nuovo locale della Julie? si adesso andiamo va bene lo stesso praticamente siamo quasi arrivati abbiamo trovato abbiamo trovato e abbiamo trovato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao, ciao! Non così. Chi è? Chi è? Ciao, polettina! Ciao! Ciao! Ciao!